Siamo in compagnia di Marea, è uscito l'altro giorno il tuo ultimo singolo, ce lo vuoi raccontare? Sì, Fatto il segreto, è una canzone che parla della mia fan, del rapporto fraterno e di quanto sia difficile in realtà dire ai propri fratelli quanto gli vogliamo fare. Sì, una ballad molto dolce che spero piaccia anche al pubblico, è una delle mie canzoni preferite, così puoi dire delle proprie, però sicuramente è una a cui tengo particolarmente. È il terzo di una serie di singoli che hai pubblicato nell'ultimo periodo, a partire dal tuo secondo esordio? Sì, è il terzo singolo di presentazione, spero entro l'anno di pubblicare un EP con cui presentarmi in maniera un po' più età ostiva al pubblico. Si sente il tuo studio al conservatorio, ma quanto ti è servito per fare musica? Io penso che tutto serva, quindi ovviamente anche lo studio nel conservatorio mi ha aiutato a scrivere, padroneggiare lo strumento, il pianoforte del mio caso. Ovviamente anche gli studi universitari confiscono sicuramente nel modo di scrivere, nell'attenzione alla scrittura, quindi tutto fa brodo, insomma. Se volessi descrivere la tua musica in po' e parole o me la descriveresti? Sincera e genuina, credo. Due parole. Perfetto, grazie mille e a lupo per la tua arriera. Grazie. Grazie. Grazie.